Grazie per la visione! Siamo qui con Catone nel finale di primo tempo, Pescara VLM 2 a 0 per voi Catone, guardiamo gli scarpini nuovi, magici, anche me, anche me, se sono nuovi ti danno un tocco in più oggi, cosa mi dici? Vabbè stiamo giocando bene, sia in avanti che indietro, devo fare gol, devi fare gol, devi fare gol, devi ingegnare gli scarpini, devo fare gol, va benissimo, in bocca al per secondo tempo, andiamo a parlare ora con i giocatori VLM, primo tempo un po' in difficoltà, avete provato a reagire, i due gol subiti, c'è poco movimento lì davanti, cosa dici? Abbiamo riuscito a segnare dopo la partita si mette in discesa, stiamo giocando bene dietro, me ne attacco un po' sfortunato, va benissimo, un po' con lo per secondo tempo, prova senza testa, la seconda partita, la seconda partita, la seconda partita del match Pescara VLM, siamo con i migliori in campo Truglio, autore di due reti, oltre che una grandissima partita la difensore centrale e poi siamo con Luigi Vitale, autore di un bel gol che aveva aperto il gioco, un bel destro al volo che il portero a passare non è riuscito a contenere, parliamo una contesa ed è stata in partita per una buona mezz'oretta, anche 40 minuti, nel finale sono arrivati questi gol che hanno chiuso la gara. Purtroppo aveva giocato bene, solo che troppo tempo che non c'eravamo insieme, è il primo anno che c'eravamo insieme, sono stati nuovi giocatori, purtroppo questa è andata così, pensavo di rifarciare la posta. Però per quanto riguarda la partita, sul 3-2 Mollica ha avuto anche la palla per pareggiare, è stato un bravissimo portiere, quindi poteva cambiare davvero tutto in quel momento. Siamo stati sfortunati, soprattutto per la bravura degli avversari che hanno giocato bene, molto meglio di noi purtroppo, perché non ci sono scusanti come stiamo facendo questa torneo. Però a parte questo, ci sono ancora le partite per recuperare, per salvarsi con... Noi cercheremo di fare il massimo e di giocarcela. Va bene Luigi, vuoi fare un saluto finale? Vorrei fare la cura a mia madre e vorrei salutare il mio amico Manuel. Grazie. Ciao. Adesso parliamo con Giulio, davvero una grandissima partita, è giganteggiato davanti alla difesa, davvero una partita impressionante, vittoria meritata, cosa hai da dire? Vedo che c'è anche il tuo amico Valerio, che anche lui ha fatto un'ottima gara. Sì, diciamo che questa non è stata una delle nostre migliori partite, perché comunque si è risolta sul finale, su delle occasioni. C'è un uomo nero. Ragazzi, solo per l'intervista è una cosa abbastanza seria. Diceva, non è stata la nostra miglior partita, però abbiamo risolto alla fine, l'importante è portare i tre punti a casa e salire di nuovo secondo in classifica. Giusto, secondo in classifica, quindi questo Pescara che punta al massimo? Ovviamente puntiamo alla vittoria finale. La vittoria finale. Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto di questa sera? Allora, diciamo che siamo stati un po' più cinici su tutto corto rispetto alle altre partite, perché comunque abbiamo avuto un secondo tempo su tre occasioni da gol e abbiamo fatto tre gol. Sì. Però non abbiamo giocato come le altre partite, con pasta a gira su terra. No, abbiamo giocato un po' bene. Ho capito. Vuoi fare una dedica finale per questa tua... Volevo fare gli auguri a mia madre perché ieri lo sto comprando al gelo aromastico e speriamo che il nostro furgero si riprenda presto. Prima possibile. Comunque buona prestazione anche di Balessie, ottimo sostituto. Sire. Va bene, salutiamo gli amici del Pescara. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao. Babuia. Scusa. Va bene, settlement. Grazie a tutti